Ho scelto Palermo perché come fai a dire di nuovo a Palermo? La città più bella del mondo. Palermo è la città più bella del mondo, non ho mai visto una città così bella. Non ci ho messo molto a decidere di venire qui. La maglia rosa nero è la maglia più bella del mondo, nemmeno a dirlo. Io ho indossato molte maglie, adoro il calcio, seguo il calcio, ma credetemi, una maglia così bella è la maglia più bella del mondo in assoluto. Il calore del pubblico palermitano è il più bello del mondo. Il calore del pubblico palermitano è unico, non c'è nessun'altra tifoseria capace di trasmettere questo calore. Mi fate adesso la domanda sul Citigroup oppure me la fate dopo? L'obiettivo del campionato è quello di migliorare il piazzamento dello scorso anno. Si è capito, qual è l'obiettivo? E' quello di migliorare il piazzamento dello scorso anno. E' semplice. Ma chi è questo qua? E adesso la domanda su Citigroup. Eh, Citigroup ragazzi rappresenta la squadra più forte del mondo, più bella del mondo. Non c'è, oggi la squadra più bella del mondo è il Manchester City, la squadra più forte del mondo è il Manchester City. Scusa, è il Real Madrid dove lo mettiamo? Il Real non conta niente, va bene. Eh, ma c'hanno un Mbappé. Un Mbappé ce lo sbattiamo, non ce ne frega niente. Eh, abbiamo capito. Beh, il centro sportivo di Torretta, ragazzi, è il più bello del mondo. Posso dire io qualcosa di mia iniziativa? Assolutamente no. Eh, così impari.